Buonasera e ben trovati con l'informazione di Arezzo TV. Treni bloccati e forti ritardi lungo la linea ferroviaria retina. Darne conto è Trenitalia che sul proprio portale web riporta come alle 13.30 la circolazione è rimasta bloccata a causa dell'investimento di una persona. L'episodio si è verificato in corrispondenza del tratto ferroviario che attraversa il cavalcavia di via Gian Battista Vico ad Arezzo sul posto dell'autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso. Voragine in una strada vicinale della frazione di Tregozzano. Se famiglie sono rimaste isolate nelle ultime ore un privato ha provveduto a creare un sentiero pedonale alternativo provvisorio sul suo terreno. Poteva essere pericolosa perché è una voragine che è sprofondata. Siccome ci passano molte macchine, qui ci sono anche delle abitazioni più a valle, poteva essere pericolosa. Si è aperta all'improvviso una strana buca, non particolarmente grande ma all'apparenza piuttosto profonda. In realtà si tratta di una gigantesca e pericolosa camera sotto il manto stradale, probabilmente scavata dall'acqua. È successo a Tregozzano, non lontano dall'abitato della frazione Aretina. Una sorta di bolla che i vigili del fuoco intervenuti sul posto assieme alla polizia municipale hanno stimato avere dimensioni di due metri di larghezza, tre di profondità e ben dieci di lunghezza. La strada vicinale ad uso pubblico è stata così transennata ed interdetta. Assolutamente perché è pericoloso, molto pericoloso, perché sotto è tutto vuoto, non sanno anche dove arriva. Al lavoro i tecnici di nuove acque per la realizzazione di un passaggio pedonale. Dopo la messa in sicurezza si procederà a ripristino, ma potrebbe volerci qualche giorno e così nel frattempo sei famiglie restano isolate. I lavori prima si è incominciato che erano quattro giorni, una settimana, dieci giorni. Non sappiamo quando finiscono. Allora, noi siamo a 300 metri, tra virgolette a piedi va bene, ma c'è chi sta a un chilometro, 800 metri e ha dei bimbi piccoli. Il problema è quello. Ma quello che mi fa arrabbiare è che noi non abbiamo neanche l'accesso ipotetico, perché è ipotetico, di un'ambulanza in questo momento. E a tal proposito sentiamo anche la posizione di nuove acque proprio su questa vicenda. Sono in corso i lavori nel cantiere di nuove acque per ridurre al minimo e quindi risolvere il problema che si è creato qui a Tregozzano, dove appunto si è aperta una voragine nella strada vicinale. Tra le cause potrebbe esserci la rottura di una fognatura. Ecco il perché dell'intervento di nuove acque. Ma sì, il quadro era già chiaro stamattina dopo che abbiamo fatto la videoispezione che ha determinato appunto la presenza della nostra fognatura che in un punto presenta una rottura. Poi se questa rottura possa aver determinato da sola quella che è la cosiddetta voragine, lo potremo scoprire soltanto una volta che avremo aperto. È stata messa in sicurezza la tubazione del gas metano, la zona è stata transennata e messo in sicurezza anche il fosso che costeggia la strada vicinale. Adesso i tecnici di nuove acque sono al lavoro per cercare di risolvere prima possibile quello che dà una buca sulla strada, si è rivelato essere invece un problema ben più importante. Questo tipo di cantieri sono cantieri che determinano appunto la realizzazione di un'opera importante. Immaginatevi un fronte di scavo, domani sarà di 5 metri, quindi con molta terra, molto materiale che verrà temporaneamente rimosso, noi auspichiamo di risolverlo nel più breve tempo possibile. Faremo di tutto per limitare quelli che sono i disagi. In questo momento possiamo vedere una passerella pedonale per consentire appunto i pedoni di transitare e in parallelo è stata ripristinata una strada vicinale che consente alle sei famiglie di poter utilizzare una viabilità alternativa e far fronte quindi a quello che era altrimenti l'interruzione della loro viabilità ordinaria. Dopo l'aggressione e la rapina avvenuta in centro ad Arezzo e danni di alcuni giovani nello scorso fine settimana, le famiglie hanno sporto denuncia. Sentiamo. Si sono presentate in questura per sporgere denuncia contro i gnoti le famiglie dei ragazzini aggrediti e rapinati lo scorso fine settimana nel cuore della città di Arezzo. Adesso spetterà la polizia a risalire l'identità dei componenti della baby gang. Almeno due gli episodi che si sono verificati nella stessa serata, il primo alle 22.30, quando i tre ragazzi, apparentemente ancora minorenni, hanno accerchiato un gruppo di ragazzini obbligandoli anche con la forza a farsi consegnare un giubbotto sportivo, una felpa e delle scarpette. Uno dei giovanissimi rimasto in maniche cortescalzo ha chiamato il padre che è subito a corso assieme ad un altro genitore che era in macchina poco lontano ad aspettarli. I tre rapinatori però si erano già dileguati con il loro bottino. Poco dopo un secondo episodio sotto i portici di via Roma, anche in questo caso un ragazzino ha rapinato del giubbotto, probabilmente la solita baby gang, visto che uno di loro aveva ancora in mano le scarpette rubate mezz'ora prima e in corso Italia. Quelli avvenuti nel fine settimana sono solamente gli ultimi episodi di una lunga serie di aggressioni e rapine consumate nel centro cittadino. Solamente pochi giorni fa la polizia aveva arrestato un giovane per una rapina con tanto di coltello avvenuta vicino ai giardini del Porcinai. Scusa ufficiali e disponibilità a pagare i danni e soprattutto una bella dimostrazione di dignità da parte dei genitori del 17enne che nella mattina di domenica 14 di gennaio si è reso autore dei atti vandalici nel centro storico di Sansepolcro, ribaltando lungo il corso principale via Niccolò aggiunti e le stradine laterali, vasi e fioriere, svuotando in strada contenitori dei rifiuti. Padre e madre del minore, accompagnati dal sindaco di Pieve Santo Stefano, dove la famiglia risiede, si sono recati a Palazzo delle Laudi per parlare con il sindaco di Sansepolcro Fabrizio Innocenti, per sottolineare come fossero stati i primi loro a non riconoscerlo in simili condizioni perché evidentemente in preda all'alcol e forse anche alla droga, scusandosi per l'accaduto e pronti a risarcire tutti gli esercenti danneggiati. L'iniziativa è stata molto apprezzata dai sindaci e dall'Associazione dei Commercianti di Sansepolcro. Sara Cherici, responsabile dell'infanzia PD, critica il nuovo regolamento per l'accesso ai servizi dell'infanzia. I nonni non possono diventare il nuovo welfare comunale, così Sara Cherici, responsabile infanzia per la segreteria del Partito Democratico Aretino, a far discutere il nuovo regolamento comunale per l'accesso ai servizi per l'infanzia, ossia nidi ed asili. Avere nonni che non lavorano, non hanno disabilità, hanno meno di 75 anni e sono residenti nel territorio comunale, sono elementi che il Comune Aretino ha introdotto per stabilire le graduatorie d'ingresso. Il nuovo regolamento, già passato in commissione, adesso sarà discusso in Consiglio Comunale. Aggiungere del punteggio a chi ha nonni disabili, deceduti o residenti fuori dal Comune è un fatto antidemocratico e rispettoso perché si dà per scontato che nonni debbano prendersi cura dei nipoti in uno stile famiglia del mulino bianco, che è ben distante dalle realtà vissute nelle famiglie Aretine, commenta Sara Cherici. Con questo criterio del punteggio si dà per scontato che nonni possano diventare, a titolo gratuito e di mero volontariato, il nuovo welfare del Comune, senza contare che dentro questa proposta si evidenzi anche una banalizzazione dei bisogni del bambino e una squalifica delle diverse funzioni che asilo e effetti familiari hanno nella sua vita. È necessario che le politiche sociali tornino al primo posto per questa città. L'asilo, conclude, deve poter accogliere tutti, deve avere posti per tutti, in orari che possano essere pensati per le diverse esigenze familiari. È stata intitolata a Filippo Corridoni l'area verde tra via Montefalco e la rotatoria all'altezza dell'Itis. È stato l'assessore Federico Scapecchi insieme al consigliere provinciale Cinzia Santoni a scoprire la targa. Filippo Corridoni è stato definito da Francesco Palazzini in consiglio comunale come eroe nazionale difensore della patria, dei lavoratori ed esempio di altruismo e generosità sia nella vita civile che in quella militare. Adesso parliamo di salute e prevenzione. Ecco l'invito allo screening mammografico da parte del direttore della senologia Aretina. La prevenzione salva la vita, quindi raccomando l'adesione allo screening mammografico, riduce la mortalità assieme alle cure del 40%. È un appello alla prevenzione, quello che arriva dalla direttore della senologia dell'ospedale San Donato di Arezzo. Lo screening mammografico rappresenta infatti uno strumento fondamentale per la scoperta precoce del tumore al seno. Per screening mammografico si intende la mammografia. L'obiettivo dello screening mammografico è intercettare le lesioni quando possibilmente sono di piccole dimensioni e quindi suscettibili di una terapia medica o chirurgica che consente pressoché la guarigione o la cronicizzazione di malattie. Lo screening è rivolto in una fascia d'età che va dai 45 ai 74 anni. Dai 45 ai 49 anni viene effettuato annualmente, dai 50 in avanti, quindi sino a 74 ogni due anni. Nella fascia 40-44 i test diagnostici per quanto attiene il seno sono da individualizzare con l'accordo del medico di medicina generale, cioè il medico di famiglia, in virtù di quelli che sono certi fattori di rischio, la cosiddetta familiarità o la familiarità geneticamente dimostrata. Al di sotto dei 40 anni non sono previsti test diagnostici, prevenzione ad eccezione nelle donne che lamentano un sintomo di emergenza, cioè l'addensamento del nodulo palpabile. Oltre agli esami di screening, importante anche l'autopalpazione. L'ispezione e l'autopalpazione hanno una rilevanza importante, soprattutto nell'intervallo tra due test diagnostici successivi e soprattutto nelle donne giovani. Infatti è dimostrato che al di sotto dei 40 anni è al pari di qualsiasi esame di imaging, ecografia compresa. Quindi osservarsi allo specchio se vi sono dei cambiamenti della propria immagine. Successivamente si solleva il braccio, si procede all'autoesame, si solleva il braccio del lato in esame, quindi con la mano opposta si fanno dei movimenti a spirale per esaminare tutti i quadrati del seno. In condizioni normali la mammella è morbida, elastica, non presenta densità dura. Infatti il tumore mammario, in realtà si parla di tumori mammari, si presenta come un indurimento fisso, non dolente generalmente, quindi come perdita di elasticità oppure come alterazioni del capezzolo, quindi quel capezzolo che presenta una ferita o un sanguinamento o una secrezione bianca come l'acqua che perdura nel tempo. Cambiamo decisamente l'argomento, parliamo di danza. Domenica 21 gennaio al Teatro Mecenate di Arezzo, secondo appuntamento con la rassegna Danza che muove, a cura di Sosta Palmizzi, dal titolo Alcune coreografie con il coreografo, performer e videomaker Jacopo Ghenna. Parla della danza attraverso la danza, è un linguaggio diciamo universale che raccoglie un sacco di significati da sempre, dalla storia dell'umanità. Coreografo, performer e videomaker Jacopo Ghenna è scena al Teatro Mecenate di Arezzo con alcune coreografie. Nel secondo appuntamento della rassegna, cura di Sosta Palmizzi, la danza che muove. Coreografia è costruita attraverso tanti frammenti video che vanno dalla storia della danza, della performance, il cinema, internet, per creare proprio una coreografia attraverso delle immagini che creano una sorta di frizione tra la danza invece che vive nel presente e queste immagini che creano rimandi diversi agli spettatori. Un dialogo continuo tra la danzatrice Ramona Caine e una moltitudine di frammenti video montati in una sequenza serrata. Un viaggio nella storia della danza attraverso il cinema ed internet. In questo lavoro a un certo punto ci si scolla dal corpo, dall'essere umano per portare un po' gli spettatori in un viaggio diverso con un video che è stato fatto dall'artista visivo Roberto Fassone che ha collaborato al progetto dove l'umanità non è più presente ma danza un po' tutto, quindi danzano le stelle, danzano i colori, danza il mondo intero, quindi la danza è un po' dappertutto. E passiamo allo sport, calcio, l'Arezzo, multa cominata alla squadra Maranto dal giudice sportivo di Lega Pro, dottor Stefano Palazzi, per uno striscione di 10 metri esposto dai tifosi del Sud Minghelli al quarantesimo del primo tempo. Il testo incriminato recitava gente di mare che se ne va tre puntini, il Luna Park cambia città, la sanzione di 500 euro è stata addebitata al club del Cavallino con la motivazione che la frase fosse denigratoria nei confronti della città della squadra ospitata, ovvero Pescara. Il totale delle ammende stagionali inflitte alla squadra dell'Arezzo sale così a 3.750 euro, di cui 400 per cori offensivi nelle partite contro Carrarese e Pineto, 2.750 per lancio di petardi e fumogini nelle partite contro Cesena, Ancona, Perugia e Carrarese e 100 a fermo per aver causato il ritardo all'inizio della partita. E adesso parliamo del campo di calcio invece del Quarata perché il Comune si è reso disponibile per la sua manutenzione e la sua riqualificazione, quindi approvato dalla Giunta Comunale il progetto di riqualificazione del campo sportivo della Indomita Quarata attraverso il bando pubblicato lo scorso ottobre. L'impianto prevedeva la necessità di compiere lavori di riqualificazione il cui costo era stimato in 40.000 euro, tuttavia il progetto approvato prevedeva numerosi ulteriori interventi che impegnano l'Associazione Sportiva a investire nell'impianto oltre 380.000 euro, quindi 10 volte di più rispetto al minimo richiesto dall'amministrazione comunale. I lavori prevedono la demolizione delle strutture prive di titolo edilizio e la realizzazione di nuovi uffici, di messaggi, delle attrezzature, le tettoie e l'accesso al campo, la separazione del percorso dei tifosi e degli atleti, la realizzazione di una scala per questo progetto, l'adeguamento degli impianti elettrici e termici per i locali esistenti e per i nuovi locali, l'adeguamento delle norme anti-incendio e tante altre operazioni che richiedono appunto questa incente cifra che il Comune si è impegnato a finanziare. Questa era l'ultima notizia per questa sera, grazie per averci seguito, a voi tutti buona serata con i nostri programmi.